Si è svolto venerdì 21 aprile nella sala Orofino di Confindustria Chieti-Pescara il seminario sui bonus edilizi, volto ad illustrare l'accordo di cessione dei crediti tra imprese del Lance e di Confindustria delle due province di Chieti e Pescara. Numerosissimi imprenditori, manager, dottori commercialisti ed esperti che si sono confrontati sulle opportunità che vengono concretamente offerte alle imprese. Uno strumento utile per superare il blocco del mondo dell'edilizia, una situazione generata dal susseguirsi di atti normativi che hanno irrigidito il mercato con effetti drammatici. L'iniziativa ha voluto favorire l'incontro tra domanda ed offerta dei crediti fiscali generati dai bonus edilizi, tra aziende del sistema confindustriale locale per scavalcare nell'interesse reciproco delle parti il blocco attuale delle cessioni creato dal disimpegno degli istituti di credito e dei forti tassi di interesse a volte praticato da società finanziarie. Antonio Dintino, presidente di Lance e Chieti e Pescara, come si affronta la problematica dei crediti incagliati e qual è l'obiettivo di questo seminario? Qualcuno ha detto tempo fa, eravamo in Ance nazionale, che le imprese si devono arrangiare. Forse andiamo verso questa direzione. Dopo gli incagli dei crediti dovuti ai diversi cambiamenti sulla legge dei super bonus, oggi le imprese, anche con dei bilanci positivi, rischiano di fallire. Fallire perché non hanno la liquidità per mancanza della cessione dei crediti. Ed ecco che nasce questo accordo tra Confindustria, Chieti e Pescara e Ance Chieti-Pescara, dopo che l'accordo è stato firmato anche a livello regionale e a livello territoriale, l'hanno già firmato anche la territoriale di Teramo e sta avendo dei buoni frutti, nasce l'accordo per la cessione dei crediti tra le imprese di Confindustria e le imprese di Ance. Non è altro che un borsino, noi cerchiamo di far mettere con l'associazione in interlocuzione, se possiamo usare questa parola, tra le imprese che vogliono acquistare i crediti e le imprese che le vogliono cedere. Presidente, ma all'interno di questo quadro, di questa situazione, quanto è importante un quadro normativo il più stabile possibile? La mamma di tutti i problemi. Noi purtroppo in Italia siamo abituati che guardiamo sempre non al di là del proprio naso. Purtroppo per fare programmazione, per dare stabilità anche e soprattutto al PIL c'è bisogno, specialmente in economia, di pianificare. Pianificare significa che le leggi devono durare almeno una decina di anni, anche perché dobbiamo rispondere all'Europa che ci chiedono sempre più case green e per avere delle case green noi dobbiamo intervenire sull'immobile, sulla parte degli immobili perché è quella che incide per bene il 40% delle emissioni in atmosfera di CO2, cioè degli inquinanti. Se noi vogliamo fare un parco del costruito degno di questo nome, dobbiamo avere una legge che almeno per 30-40 anni ci permetta di risistemare le nostre case. Nel corso di questo seminario è stato presentato e sottoscritto il protocollo di intenti tra Confindustria Chieti Pescara e Danci Chieti Pescara. Qual è il suo fine? Il suo fine è quello di far incontrare le imprese che vogliono ricomprare i crediti con le imprese che lo vogliono vendere. È naturale che questa cosa, più facciamo capire alle imprese che ricomprando i crediti possono fare un ottimo investimento e soprattutto un ottimo investimento anche in prospettiva di PIL. Perché dico in prospettiva di PIL? Perché oggi far andare in difficoltà il settore dell'edilizia significa affossare anche il PIL italiano. L'industria edile è l'industria più importante per quanto riguarda l'incidenza di mano d'opera e noi sappiamo che dando un buon stipendio, perché da noi ci sono dei buonissimi stipendi nel nostro settore, ai nostri lavoratori, porta PIL per tutto il Paese. Ecco Presidente, ma che momento sta vivendo l'industria edile? Sta vivendo un momento stranissimo. Io sono 40 anni che vivo di edilizia e non mi era mai capitato di avere una situazione di questo genere. È un momento in cui i bilanci delle imprese sono ottime, per ora non troviamo neanche mano d'opera per far lavorare i nostri cantieri, ma se non abbiamo al più presto la liquidità incagliata con l'incaglio e la cessione dei crediti, rischiamo di far fallire imprese che hanno dei buoni bilanci. E questo non era mai successo in edilizia, è la prima volta, è un paradosso. Secondo lei quale potrebbe essere una soluzione? La soluzione la dobbiamo chiedere al nostro governo, perché oggi trovare una soluzione per i crediti incagliati, secondo me ci vogliono non più di tre secondi. È la volontà del governo. Basta pensare che il governo, con una legge che io chiamo venezuelana, in tre ore ha inficiato la cessione dei crediti con tutte le regioni d'Italia. E ha detto che tutti gli apparati pubblici non possono ricomprare i crediti. Quando prima la legge diceva che qualsiasi correntista delle banche e anche le regioni con le proprie partecipate hanno dei conto correnti con le banche, potevano ricomprare i crediti, basta che pagavano i modelli F24. Però con una legge, ripeto, venezuelana, in tre ore è stata questa tolta di mezzo, ma se lo Stato vuole, basta far riaprire cassa dei posti appresti, basta far riaprire poste, basta far ricomprare i crediti a chi paga i modelli F24 e questo si risolverebbe in tre secondi. È naturale che il problema dei crediti incagliati le ha generato la cessione dei crediti, cioè la moneta virtuale, che Banca d'Italia e BCE sicuramente non hanno amato dal primo minuto e quindi hanno avuto sempre in loro un ostacolo importante. Per oggi chi comanda fa legge hanno deciso di togliere la cessione dei crediti, a noi anche se non ci sta bene, ma giustamente chi comanda fa legge va benissimo, però oggi la mamma di tutti i problemi è che dobbiamo disincagliare i crediti dai portafogli delle imprese, perché se non facciamo questo rischiamo di far fallire imprese sane, rischiamo di far aprire qualcosa come soltanto in Abruzzo qualche 100-200 mila contenziosi con i condomini. Penso che questo non ce lo possiamo permettere. L'appuntamento è stato attenzionato anche a livello nazionale con la partecipazione al seminario dei rappresentanti di Vertice di Ance e Confindustria. Stefano Betti, vicepresidente nazionale Ance, delegato all'edilizia ed il territorio, quello di oggi è un seminario molto partecipato che accende i riflettori sul blocco del mondo dell'edilizia, generatosi a seguito di atti normativi che hanno irrigidito il mercato. Quanto sono importanti questi eventi, questi seminari? Beh, l'importanza è molto chiara. Nel momento in cui lo Stato, attraverso il succedersi di queste mutazioni di regole, ha sostanzialmente, come ha detto lei, ingessato il mercato. È chiaro che mentre chiediamo dal punto di vista nazionale lo sblocco dei crediti incagliati, che è l'elemento essenziale per riprendere, dall'altro lato tutte queste iniziative che mettono, come dire, che fanno ponte, che mettono in collaborazione delle imprese di costruzione con le imprese industriali potenziali acquirenti dei crediti d'imposto, sono iniziative molto importanti perché sono iniziative che danno, come dire, il segnale da un certo punto di vista dell'urgenza e dall'altro anche della vitalità dei territori che cercano, tra virgolette, all'interno del proprio sistema di porre rimedio ai problemi che ci sono. Luigi Di Giosafatte, direttore generale di Confindustria a Chieti Pescara, a questo seminario si propone proprio di fare squadra, di creare una rete, di mettere in comunicazione aziende, imprese, visioni. Assolutamente sì, uniamo in questa problematica seria la solidarietà delle imprese di Confindustria verso le imprese del sistema Ance che sono di Confindustria perché si faccia un'operazione non solo sociale ma anche utile alle imprese che in qualche modo acquisteranno i crediti delle aziende nostre dell'Ance. Chiediamo anche che le stesse aziende possano chiedere ai loro consulenti e ai loro commercialisti la validazione di quest'operazione. Ne siamo certi, siamo garantiti dal fatto che è un'operazione in estrema sicurezza e che le nostre aziende, oltre ad aiutare le loro consorelle, possano in qualche modo fare un'operazione anche utile ai loro conti. Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria a Chieti Pescara, ha aggiunto il comparto edilizio è un volano per tutta l'economia. Come associazione datoriale riteniamo fondamentale stimolare opportune aggregazioni e favorire la crescita delle imprese in ottica di filiera anche per raggiungere gli obiettivi di allocazione dei fondi PNRR per la ripresa e valorizzazione dei nostri territori. Il pericolo è il ritardo nella spesa, non dobbiamo dimenticarcelo. Abbiamo bisogno di investire sul personale, sulla formazione, sulla progettazione, sulla semplificazione amministrativa. A tutto questo abbiamo affiancato lo strumento operativo della cessione dei crediti tra imprese, illustrato oggi a tanti imprenditori grazie ad autorevoli esperti di settore. Dottor Piscione, da oltre un anno ormai le sorti del mondo dell'edilizia sembra dipendano totalmente dallo sblocco dei crediti fiscali. Ci fa una fotografia? Sì, diciamo che lo Stato italiano all'inizio ha incoraggiato questo intervento che era prospettato non solo dall'Italia ma anche dalla Commissione europea, quindi della riqualificazione energetica e strutturale di tutti gli edifici. Ecco che in buona fede tutti i proprietari di casa che io rappresento come associazione dei proprietari di immobili ma anche le imprese facendo fiducia su una norma statale hanno iniziato a effettuare questi lavori. Da un lato i proprietari di casa non pagavano niente quindi non avevano un onere finanziario che però veniva trasferito alle imprese le quali facendo lo sconto in fattura maturavano questo credito che a loro volta cedevano alle banche o a privati. Si è passati però da un bene fungibile, questo credito che era possibile cederlo a chiunque in qualsiasi momento, a un bene infuggibile, cioè cedibile solo ad alcune condizioni e dopo la prima cessione che noi chiamiamo jolly, questi crediti possono essere ceduti esclusivamente a delle banche. Questo ha bloccato completamente il mercato del credito ma a cascata ha bloccato anche i lavori quindi abbiamo cantieri fermi e laddove l'impresa non è riuscita a farsi assegnare un plafond consistente della banca adesso si trova nella difficoltà di cedere i successivi sal. Cosa succede? Che le banche hanno chiuso, le poste hanno chiuso, le cassa depositi e prestiti hanno chiuso a questo punto lo Stato è intervenuto con una serie di decreti, ha modificato l'articolo 121 che poi è quello principale del credito oltre 23-24 volte quindi capite bene che ogni volta che c'è una modifica si riunisce l'ufficio legislativo della banca che analizza la normativa e a quel punto prima di rimettere il prodotto sul mercato se ne passano altri due mesi. Di qui l'iniziativa di oggi tra Ance e Confindustria per cercare di smobilizzare questi crediti che in realtà sono dei crediti ad oggi col nuovo decreto 11 del 2023 convertito con la legge 38 abbastanza sicuri. Noi quello che vogliamo dire oggi è che l'acquisto del credito da parte di un'impresa o da parte di un privato è un investimento a basso rischio che può rendere dal 7 al 10% quindi molto di più di qualsiasi altro investimento a basso rischio ma nello stesso tempo può far ripartire il mercato dell'edilizia. Questa legge, questo decreto, il decreto 11-2023 convertito in legge 38 pone dei paletti ben precisi però affinché chi acquista il credito non sia coinvolto in solido con chi lo vende. Noi abbiamo letto da tutte le parti le truffe sui crediti di dizzi, ci sono stati articoli giornali ma tutte queste truffe riguardano il bonus facciate cioè il bonus dove non vi erano regole, non vi erano massimali, non vi erano asseverazioni ecco perché imprese truffaldine e direi purtroppo anche professionisti disonesti hanno approfittato dal novembre 2021 che è entrato il decreto antifrodi a questo punto prevedendo la necessità di asseverazione di massimali dei prezzi queste truffe non sono avvenute più tant'è vero che le truffe super bonus incidono circa il 3%, basti pensare che invece l'evasione IVA in cui l'Italia diciamo purtroppo è la prima in Europa è di oltre il 10%. Tutto questo per dire che il rischio qual è? Che con lo blocco dei crediti quindi per gli interventi successivi all'uscita del 16 febbraio 2023 laddove non fosse stata presentata la CILAS e non ci fosse l'assemblea condominiale purtroppo i cittadini malgrado abbiano iniziato tutte le procedure, malgrado i condomini abbiano incaricato dei tecnici, degli architetti per fare i progetti si vedono svanire tutte le loro aspettative, tutti i loro progetti. Invece per chi è andato avanti con queste procedure l'intervento adesso è molto più sicuro purtroppo tranne per gli ACP e per le ONUS e qualche altra associazione di volontariato che fa attività sociale il 31 12 2013 sarà l'età ultima per completare gli interventi dei condomini al 110 poi passare al 70 e poi al 60. Per i bonus minori purtroppo anche qui è stato bloccato il credito e se non è stato fatto un accordo, non è stato fatto un contratto, non è stata fatta una fattura prima di quella fatidica data del 16 febbraio 2023 purtroppo lo sconto in fattura non si può fare più e gli interventi possono essere portati solo in detrazione da chi li vuole effettuare. Questo comporta che nei condomini dove c'è la solidarietà quando qualcuno non paga il 110 permetteva di fare gli interventi perché è a costo zero. A questo punto essendoci la solidarietà probabilmente questi interventi non si faranno più nei condomini. Come KPMG, ufficio di Pescara, come responsabile dell'ufficio di Pescara siamo senz'altro molto lieti di poter collaborare con un'iniziativa così importante a livello locale promossa appunto da Confindustria e Ance e Chiedi Pescara che senz'altro favorisce quella che sulle procedure di smobilizzo dei crediti per questi crediti cosiddetti incagliati derivanti dal super bonus a favore appunto delle principali e delle realtà abruzzesi che operano sul mercato di riferimento. Il nostro ruolo di advisor fiscale intende favorire garantendo il processo di compravendita di questi crediti lo smobilizzo, la possibilità di liquidare queste imprese e quindi diciamo siamo molto contenti di poter mettere a fattor comune quella che è l'esperienza di KPMG maturata in questi due tre anni di vigenza della normativa sull'eco bonus dal momento che abbiamo da sempre lavorato a fianco dei principali player bancari a livello italiano anche delle principali realtà del mondo energy. Quindi diciamo senz'altro siamo contenti di mettere a disposizione la nostra esperienza per le realtà abruzzesi locali.